Ciao ragazzi! Oggi siamo qui con Happy Wheelsia Oh bui! Oddio, cominciamo benissimo Siamo diventato un qualcosa che fa cuto E adesso sono brutto Mi sono messo bene Round 1 Fight! Oggi siamo qui con Kill Their Art Livelli di uccisioni totali, come state vedendo Che è incredibile Sopravvivere! Sono fatta adesso di gemi Che... Oddio! Non l'avevo vista Oh mio Dio! Sono vivo? Finale, chi è finale? Oh mio Dio! Che caspita è questa roba? E gira No, sono morto No, io ce la stavo facendo Oh mio Dio! Jimmy con Jimmy Chi vince è Jimmy Yeee Eeeee Ciao No 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 Sto andando ancora Non ci credo Che cosa? E' ancora vivo? No, mi sa che è morto adesso Va bene Adesso ve lo vedete con lui Ok, it is difficult, no, it is difficult per me Guardatevi avanti, maledetti Va bene Cominciamo benissimo, allora Ora, per tutto prendiamo il magnete e prendiamo qualche oggetto Magari fermati, no? E vabbè, se hanno fatto qualcosa prenderò più o poi Vabbè, non penso che sono morto Sei il magnete che continuano ad andare avanti di me Oh mio Dio, sei calmo Staccati per fav... ok Ce lo sto facendo, sto andando avanti Sto raccogliendo cose a caso Oddio mio Che calmo sta facendo? Oh mio Dio Vai, verso la vittoria Versa la vittoria Mi sto andando? Chissà che non c'è nulla di qua Aiuto, espulsione! Oh mio Dio, sono rimasto attaccato qui Basta Passiamo seriamente con uno che sia serio Lui Oppure no Ok, utilizziamo lui Perché l'altro è un vecchietto Classico fa schifo Ok, nulla mi sconfigge Neppure te Ti sei confeggata la scena nelle gambe Oddio Mamma mia Come l'ho schivato Finale, oddio Questo è finito Sono io Mi devo uccidere Non puoi battermi Però mi ucciderò da solo Peccati questo Mi sono ucciso Mi ha preso Il mio cadavere è morto Mi ha preso Che cosa cazzo c'è? Vai Avanti Ok, vado avanti con queste cose E levati, dai Sei morto ormai Accetta il destino Oh mio Dio Che roba Ok, non spero si è attaccata Ma rimane l'altra È un'impleta Stai calmo E dai Vai Non riesco ad andare avanti Oh mio Dio Vai Vai Levati Basta Ricominciare il capo Mi sono rotto Oh Aspettate di battermi Stai a venire illuso Stolto Oddio Oh mio Dio Ho mangiato gemme E sono fatto anche un po' male Oddio Come il caspito ho fatto a scrivarlo Beh, non l'ho scrivato completamente Però Sì Prima ho mangiato gemme Tutta una scena epica Oddio Va bene Non lo facciamo in alto Però va Uno Kim Dem Al Kim Dem Al Questa sembra una cosa molto Lollosa Oh yeah Oh loll Ninja Attacca Questo lo dovevo evitare forse Allora Beccati questo tu Allora Capito che ci sono delle spine Non le devo toccare Vai No Vabbè Fatto fare questo è difficilissimo E non ho voglia di farlo Loll Oh apriti Ma questo è uno sword throw E vabbè Io faccio così Oh yeah Va bene Un kingdom al bellino come questo Che ha tanti punti esclamativi Ma no Con Babbo Natale Dai Vabbè Che ti metterà All'avanti Oh 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 Devo usare per forza Babbo Natale Cioè vai giro E vai avanti Vola Vola Sì 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 No Va bene Oh Kingdom al boys Lol Come boys Perché Tipo che bisognava uccidere Timmy Sui parenti Ma va Voi attrava Vado questo Sei Questa Dica Vado Kingdom Aspetta Che devo aspettare Ok È facile Sì È facile Taglia Ui Ciccione E Yau Lo dice Quasi Non è Stupido Chilled Cioè Gem Oddio Eh Ma ti Stolco Grande No Vai Sì Va bene Tanto praticamente Aveva vinto Ok Facciamo questo qui L Non so cosa sia un L Questo è Epic Quindi io faccio quello Epic LoL Ma c'è Ma non ci sono quelli che si muovono Era Epic Perché Questo No Avevo visto Quello Cosa lì Aia Eh ma si Tutto bene È tutto ok Oh mio Dio No Guarda sta danzando Tutta la Tatata Ci ci Tata Ci ci Tita Va bene Vecchimi Grande Mio Dio Oh mio Dio Oh Scusami Beh sì Fussero da Vai avanti Però È un po' difficile Attivare Neinfilt Ok C'è un fatto E si Che vuole Oh mio Dio Sono morti Sono fatti Cioè Yahoo Bene Favamo quello L Sembra interessante Tarararà 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 Oddio Si muovono Sì Questi si muovono Anche Allora è più bello Ok È arrivata Tararà Grande Questo invece Ne uccide Come fate a scrivere Quello difficile Ok Beccati Questo Ok Wow Grande Mi ha staccato Le gambe Ma sto ancora bene Non più Come cazzo Mi ha fatto sopravvivere Perché Mi stacca sempre Le braccia Qui Maledettissimi Non potrà Perché Qui Non c'ho sempre G Questi maledetti Mi hanno ucciso Ecco Sì Ce l'ho fatta Oddio 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 Allora Questi è facile Ascrivere Così No Così Questi bisogna abbassarsi E questi sono già più difficili Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Questo invece è il pirata Che lanciò la spada Uh Gli ho fatta Andare Quella Adesso lo userò Come patizione Va bene No Ok Grande Guarda Vai Avanti Beh E' morto anche Il cotto Littich Kill them All Ciccioni Ciccioni Belle Per te domino Però io voglio andare avanti Vai avanti Vai avanti Mi qua ci stanno facendo Davvero Voi uccidere Gimmi Questi ma elettissimi Gimmi Vai giù Gimmi AAAAAAAA Non sono tuo padre UAAAAAAA Basta Cerchiamo un Kill them Alvera Però Questo Credo che l'abbiamo già fatto No Questo non sembra No Non l'abbiamo Non l'abbiamo Fatto Questo Muori Oddio Questi Muovono anche Ma quelli prima No Buh Buh Endshot Non è Fila che Inzende Però E BAH Grande Questo qua Mi lancia il coso addosso No Fa così Ma io mi salvo E Questo mi uccide No Oddio mio Sono un grande Sono un grande Face Gemme Cupido Gemme No No Aspetta Secondo Helicopterman Vai 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 Giù Adesso andiamo a farti un giretto amico Allora che dici No Ti stai divertendo Ti stai divertendo No Ti diverti Vai No Per pochissimo Non è possibile Va bene ragazzi Facciamo ancora Questo qui Che è molto hard No Jimmy Papà Addio Papà Addio Uh Fa lo spesso Mamma mia Ho già sbagliato di Jimmy Con cose Ma sono veri Senza Jimmy è possibile Mi schia però Era malvagio Quello che ha fatto A questo livello Di sicuro È difficile Soprattutto La parte di Gemi Ecco Mi schia Va bene ragazzi Questo era Happy Wheels E quindi Noi ci vediamo Al prossimo episodio